Al via gli accertamenti del comune di Capaccio Pestum per i pagamenti dell'Imu per gli anni 2014 e 2016, partiti più di 4.200 avvisi, l'ufficio Tributi punta a recuperare oltre 3.700.000 euro provenienti da omessi pagamenti. A seguito delle verifiche documentali sono emerse discordanze di natura tributaria idonee e sufficienti a dar luogo all'avvio del procedimento finalizzato alla verifica di quanto è emerso. Nei prossimi giorni si procederà all'invio degli atti di accertamento Imu annualità 2014 e 2016 a coloro che sono risultati non in regola con i pagamenti. Gli avvisi sono stati approvati con determina numero 24 del 12 dicembre 2019 e determina numero 25 del 20 dicembre 2019. Avvisi di accertamento per un totale di 2.667.329 euro. Una volta ricevuto l'avviso, il contribuente potrà pagare la sanzione entro 60 giorni vedendo la ridotta di un terzo della somma totale dovuta al comune. La sanzione è da pagare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Inoltre il comune Capaccese ha formulato anche un nuovo metodo di pagamento rateizzato fino a 72 rate possibili nell'ottica di agevolare in modo concreto i contribuenti in un momento di crisi come quello attuale. Per poter far uso della nuova modalità di rateizzazione, il contribuente dovrà presentare una specifica istanza all'ufficio tributi.